Notizie Oggi è una produzione di Canale Italia Ecco, questo è il primo argomento e ne parleremo con, a partire dalla mia destra, il professor Antonio Maria Rinaldi, docente universitario di economia, ci proviamo, il nostro amico Armando Della Bella che fa parte dei Cittadini Attivi Buonasera direttore, buonasera ai telespettatori Buonasera, benvenuto a Giulietto Chiesa, lista del popolo, dico bene? Dice bene Ecco, poi abbiamo il nostro Simone Di Stefano, di Casa Pound, segretario nazionale Esatto, buonasera E qui vuoterà il sacco, capiremo qual è il programma, qual è il progetto che avete voi Perché se nessuno, io mi rivolgo adesso alle televisioni nazionali, se nessuno dà spazio a queste persone, come fate a capire il loro valore o il loro progetto, il loro programma? Non lo so Bruno Cesaro, è così? Eh, esattamente così Progetto nazionale, il nostro amico Sì, più o meno Ecco, come più o meno? Sì, ma sì, diciamo di sì Hai tantissime fans Ho più sigle che i capelli Ma tante fans mi hanno chiamato oggi, mi hanno scritto, hanno detto C'è Bruno Cesaro, è una garanzia per la trasmissione Grazie, ringrazio, mi hanno stato scusato No, no, le ringrazio, dopo valuteremo l'aspetto anagrafico di queste signore Però comunque intanto ringraziamo sentitamente Buonasera anche a dottor Maurizio Gustinicchi, scenarieconomici.it Ti abbiamo visto anche nella sigla, più a canete che mai Allora, posso per rispetto cominciare con Rinaldo Rispetto anagrafico Rispetto anagrafico Dovete essere però veloci Velocessi Dire la vostra Telegrafici A proposito di questo Sì, no, euro È veramente la rovina per l'Italia Oppure dobbiamo venire fuori dall'Europa E stare nell'euro O all'alternarci dall'euro E restare in Europa O restare in Italia in punta e basta Vai Considerazione telegrafica Abbiamo visto tutti i programmi elettorali Chiamiamolo così Dei partiti politici Tutti quanti promettono Come ha detto Padoan La fatina blu Che cosa eccetera Compreso il PD Perché anche il PD sta promettendo la fatina blu Esenzioni Vantaggi per le famiglie Investimenti pubblici Insomma Ho fatto due calcoli Nella migliore delle ipotesi Sono una settantina di miliardi di euro Non è la peggiore 100 Dove li prendiamo? Allora Se fossero effettivamente coerenti Coloro i quali propongono queste cose Dovrebbero anche dire che sarebbe possibile Realizzarli solo nel caso del ritorno alla sovranità monetaria Cioè se noi ritorniamo alla sovranità monetaria Tutto quello che dicono è possibile effettuarlo Altrimenti rimane sempre con il discorso della fatina blu Cioè il 4 sera Se non il 5 mattina Purtroppo non sarà realizzabile Allora Per essere coerenti bisogna dire Promettiamo questo E per poterlo fare Noi diciamo Arrivederci e grazie D'altronde abbiamo visto che i tedeschi Sono stati così gentili Ne ricordarci oggi Che siamo combinati peggio della Grecia Sul wealth Quindi insomma Fa riflettere Effettivamente con le regole dette da loro Siamo peggiori Se ci riprendiamo invece le regole nostre Tarate per noi Molto probabilmente la situazione sarebbe migliore Benissimo Perfetto Prego Della bella Sì noi come cittadini attivi Abbiamo sempre avuto Un'idea particolare su questo tema E cioè Siamo sempre stati convinti Sono sempre stato convinto Che in realtà Quello che in campagna elettorale Viene identificato come il diavolo Cioè questo euro In realtà La percezione che ho io Come cittadino Come pubblico Ascoltatore delle televisioni Sia un fenomeno di distrazione di massa Mi spiego In realtà Io non credo che questo sia il problema Che possa risolvere I problemi dell'Italia Io credo che in realtà Ci si nasconda dietro A questa cosa Cioè all'euro Per non parlare invece Di quello che è il vero problema Dell'Italia Che ha nel rapporto con l'Europa Mi spiego L'Italia è uno dei sette fondatori Otto fondatori Della comunità europea Bene Il nostro ruolo Nulla Che stanno facendo di tutto Con fronte dell'Europa Del nostro governo Di sapersi farsi rispettare E di pretendere Quello che noi diamo in Europa Noi in Europa Diamo 40 miliardi all'anno Non riusciamo nemmeno A ottenere una quota A parte di quello Che finanziamo in Europa Questo è il vero problema È un fenomeno Che viene identificato Su una cosa Che in realtà distrae Dal vero tema Avere confermato Sottoscritto E validato E validato Normative Che ci stanno penalizzando Qui facciamo Facciamo Alziamo Diciamo Cittadino attivo Concluda Qui in Italia I politici fanno Diciamo gli arroganti Vanno in Europa E poi sono gli zerbini Di tutti Mi raccomando Questo è il problema Niente comizi Dovete essere sintesi No ho detto la mia idea Sei troppo attivo Troppo attivo Questa è la mia idea Non è l'euro Ma è il rapporto Abbiamo capito Allora Adesso è la volta Di Giulietto Chiesa Lista del popolo Prima di andare E dire la sua Come mai Questa lista del popolo Come nasce l'idea Di formare questo Partito movimento Mi faccia capire Non è ancora un partito Perché abbiamo cominciato L'altro ieri Ci siamo riuniti È una libera unione Di cittadini Che hanno idee diverse Che sono praticamente Che occupano Tutto l'arco costituzionale E che sono Di destra Di sinistra Di centro Ci siamo messi d'accordo Su delle idee Non su uno schema Qualunque Abbiamo cominciato ora Poi vedremo cosa saremo Dopo Cioè lei Pensa di portare Io penso Che ci sia un enorme spazio In Italia Di gente che ne ha le palle Piene di questo sistema politico Che non va a votare Metà degli italiani Non va più a votare Io sono convinto Che ci sia un sacco di gente Invece che vorrebbe Una rappresentanza vera La dimostrazione Del fatto che A dicembre del 2016 Quando si è chiesto Agli italiani Se volevano rinunciare Alla costituzione O no Il 60% degli italiani Ha detto Che non vuole rinunciare Alla costituzione Questi non sono stupidi Il 60% Ha detto No Alla riforma Alla trasformazione Alla deforma Della costituzione Quindi questo è lo spazio Dove noi ci collochiamo Adesso detto nel merito Due considerazioni Molto veloci La prima è Che l'Italia È una colonia Io in questo Mi collego Quello che diceva Il mio predecessore Noi siamo una colonia Degli Stati Uniti D'America Non contiamo niente Obediamo agli ordini E quindi Quando io sento parlare Di sovranità monetaria Mi scappa un po' da ridere Scusate Perché se siamo una colonia Possiamo anche essere sovrani Dal punto di vista teorico Ma siamo una colonia E obbediamo agli ordini Del padrone Quindi la questione Che noi poniamo La lista del popolo Per la costituzione Dice Che noi Dobbiamo Trasformare l'Italia In un paese Neutrale Cioè Fuori dalla Nato Questa è la prima questione Perché non vogliamo Andare in guerra E non abbiamo nemici Noi siamo contrari Alle sanzioni Perché le sanzioni Sono illegali Dal punto di vista Giuridico internazionale E non sono motivate La Russia È un nostro amico Non è un nostro nemico Quindi Impostiamo la questione In un modo del tutto diverso La prima questione È conquistare La sovranità La sovranità del paese Se non abbiamo questa Non ci può essere Nessuna sovranità monetaria Che tenga Tanto più Che il nostro debito Che è fasullo adesso Era fasullo Anche prima che arrivasse l'euro Dal 1992 Quando hanno Cioè non esiste Che esistevano Gliel'hanno regalate Per 5 lire Letteralmente Dopodiché queste banche Stanno andando in fallimento Una dietro l'altra E chi è che salva le banche Questi qui che parlano in televisione Parlano di mercato Ma che mercato è? Se c'è una banca privata Che va in fallimento È lei che deve risolvere il problema Non è lo Stato Che deve pagare questa banca Per tenerla in piedi Noi siamo in un sistema Di ladrocinio Generalizzato E sistematico Bisogna porre fine a questo Per porre fine a questo Concludo Ci vuole una Nuova opinione pubblica E cioè ci vuole Una televisione Che dica la verità Noi abbiamo Le sette televisioni nazionali Che raccontano Ogni giorno Ore di balle Ore di balle L'unica è la nostra Che non racconta balle No, io non polemizzo con voi Sto dicendo che le sette televisioni nazionali Sono delle balle Poi c'è un'ultima Ancora io ho finito La proposta Noi abbiamo elaborato Con un gruppo di economisti Il quale io Concedo grande fiducia Perché li ho letti Con molta attenzione Io non sono un economista Ma leggo Ogni tanto E i nostri economisti Ci hanno detto Che noi possiamo benissimo Affrontare il problema Della crisi Economico-finanziaria Del nostro paese Producendo una moneta Italiana Retta Dalla cassa De politi e prestiti Che è una grande banca pubblica Piena di miliardi Del risparmio Dei cittadini italiani Quindi noi diciamo Che si può istituire Una moneta Un certificato Di credito fiscale A restituzione Dopo tre anni Che ci consentirebbe Di fare 200 miliardi Di investimento Per la ripresa Economica e produttiva italiana Per creare lavoro Questo non aumenta Il debito dello Stato Perché sarebbe Una moneta Interamente italiana Abbiamo tempo Per parlare Di programma Di progetti Intanto No 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 Le mie due considerazioni Sono fatte Molto semplici Perfetto Poi avremo occasione Durante il dibattito Finale 11 Non vi mollo Saremo qua Perché dovete Spiegare Far capire Al popolo italiano Anche noi siamo A livello nazionale Quindi Quello Che sta accadendo In Italia Diceva la Fallaci Caro Amico Simone Di Stefano Diceva la Fallaci Andiamo a vedere L'ho perso Io lo vado A recuperare Perché è molto Importante E' un paese Così diviso L'Italia Così fazioso Così avvelenato Dalle sue Meschinerie tribali Si odiano Anche all'interno Dei partiti In Italia Non riescono A stare insieme Nemmeno Quando hanno Lo stesso emblema E ne abbiamo Ad esempio Di questi giorni Insomma Lo stesso distintivo Gelosi Bigliosi Vanitosi Piccini Non pensano Che i propri Interessi Personali Ecco Ritiene che sia così Come diceva la Fallaci E poi Un breve scurso Su quella che è La nostra moneta No Non condivido Perché non mi piace Mai Il cosiddetto Autorazzismo Verso gli italiani Quindi Siamo sempre A parlare Di noi stessi Sempre a delineare Una situazione Da cui non si può uscire Perché tanto Siamo italiani Non possiamo fare niente Non possiamo riprenderci A nostra sovranità Non possiamo Uscire dalla Nato Non possiamo Riprenderci A nostra moneta Mentre noi Siamo assolutamente Convinti Che questo popolo Può fare Ciò che vuole E che deve Assolutamente Riprendersi Le chiavi di casa Ovvero Uscire Immediatamente E in maniera Unilaterale Dall'euro Uscire in maniera Netta E unilaterale Anche dall'Unione Europea E tornare ad avere La sovranità Piena Della nostra economia Della nostra moneta Soprattutto del nostro bilancio Per poter far sì Che lo Stato Torni semplicemente A fare lo Stato Ovvero Il regolatore Dei processi economici All'interno di una nazione Che sia libero mercato Ma che deve avere Delle regole E quindi uno Stato Che torna Con la propria sovranità Ad investire A fare una programmazione Economica A mettere in circolo La ricchezza Quindi Di conseguenza Magari Possiamo tornare A reindustrializzare Questa nazione Che inesorabilmente I nostri partner europei Che credetemi Non stanno lì Ad aspettare Che noi acquisiamo Una certa dignità Da cui non si sa bene Da cosa dovrebbe arrivare Dobbiamo dire Ai nostri partner europei Grazie Arrivederci Ridateci i nostri soldi indietro Noi vogliamo tornare Ad avere una nazione industriale Vogliamo tornare A stabilizzare il lavoro Vogliamo tornare A far sì Che i giovani Abbiano un posto fisso Che questo gli consenta Di comprarsi una casa E di fare dei bambini Cioè una cosa semplicissima Di cui la politica Oggi non parla più Che è un progetto Che dovrebbe coinvolgere Tutti gli italiani Ma che inesorabilmente Adesso è diventato Una sorta di sogno Di astrazione Se tu vai da un ragazzo Qualsiasi Gli dici Cosa immagini Della tua vita Da qui a dieci anni Nessuno Oggi con tutto ciò Che è stato messo in campo Ovvero la precarizzazione totale I contratti a tempo I contratti a gettone I contratti Vai a lavorare Se vinci Il gratte vinci Con tutto quello Che è stato messo in campo Noi andiamo inesorabilmente Verso l'estinzione Perché se non c'è Una visione del futuro Semplicemente Non si mette su famiglia E non si fanno bambini Quindi queste cose qua Se noi vogliamo tornare Ad averle Semplicemente dobbiamo Andare in Europa E con un atto di imperio Dire arrivederci e grazie Noi torniamo ad essere Quello che eravamo Prima di entrare nell'euro Ovvero la quinta potenza Economica del mondo Un posto dove Avere un posto di lavoro Comprarsi una casa E fare dei bambini Era nella testa Di tutte le giovani coppie Quindi questo Semplicemente In maniera molto chiara Dobbiamo fare Per fare questo Cosa serve? La volontà Perché se noi Non abbiamo la volontà E se noi ci riscopriamo Come popolo Determinata Ad ottenere Ciò che è Nel nostro interesse Non lo faremo mai Se facciamo come fa la fallace E continuiamo tutti a litigare Ci separiamo Destra, sinistra Centro Non andiamo da nessuna parte Le parole di chiesa Sono state Secondo me Lampanti Da questo punto di vista È vero che oggi Dobbiamo superare Le divisioni Dobbiamo superare I vecchi schemi Dobbiamo far finire La guerra civile Ritrovarci attorno A qualcosa che ci unisca E noi lo riconosciamo Nella nostra bandiera nazionale Nella Costituzione Nei confini Nella storia Nella tradizione Di questo popolo Uniamoci E facciamo quello che c'è da fare Questo sta cercando Di dire Casa Pound all'Italia Non torniamo a cent'anni fa Andiamo avanti Guardiamo al futuro Bruno Cesaro Sì Mi pare Che Siano stati espressi Dei concetti Che sono Del tutto condivisibili Da persone Di buon senso Purtroppo Spesso Chi va a votare Il buon senso Lo lascia Lo lascia a casa E si ricorda Di portare via solo La tessera Quello che è stato detto Da chi mi ha preceduto È vero Siamo una colonia Come diceva Chiesa Non abbiamo La sovranità Come diceva L'economista Quello che ha detto Simone Di Stefano È del tutto Condivisibile Ci vuole una Una reazione Al torpore Che ha Che si è impossessato Dell'Italia E degli italiani Francamente Quando sento Dei metra pansè Che sono poco metra E molto meno pansè Tipo la La signora Emma Bonino Che io conoscevo Molto onestamente Io la conoscevo Perché Faceva la pubblicità L'aborto Con le La pompa E le biciclette Adesso è diventata Un guru Qui in Italia E lei dice Che abbiamo bisogno Di centinaia Di migliaia Di africani Di extracomunità Si chiamano africani Non è un'offerta Non solo lei No perché una volta Mi ha ripreso Perché li chiamavo africani Cioè Era un po' perplesso Sono dall'Africa Si chiamano africani Fossero asiatici Sarebbero Dall'Asia Sarebbero asiatici Vabbè Cioè noi Non abbiamo più La La facoltà Di Di vedere Il nostro futuro Di avere Una Una Minima speranza Nel nostro futuro Quello che diceva Simone Prima È del tutto vero Lui è giovane Però E lui frequenta i giovani Più più del sottoscritto Probabilmente Però quando dice Che i giovani Non hanno più La speranza Perché la voglia Ce l'avrebbero Il desiderio Ce l'avrebbero Ma non hanno più La speranza Di fare una famiglia La famiglia È Quell'entità Sulla quale Si sono formati Tutte le nazioni Non solamente L'Italia Noi non abbiamo più La facoltà Di fare una famiglia Perché non abbiamo più I soldi Perché Non abbiamo più Un posto fisso Quando Com'è che si chiama Quello lì Renzi Quando Renzi dice Ho creato un milione No no Mi è sfuggito sul serio Abbiamo creato un milione Di posti di lavoro Ha creato un milione Di precari Lei lo sa Professor Monaco Che se una persona Lavora un'ora Alla settimana E gli viene dato Un salario Per un'ora Alla settimana Secondo le nuove Regole dell'Istat È un occupato È una presa Per il naso Mi veniva in mente Un'altra parte Del corpo Ma siamo in tv È una presa Per il naso È assurdo Cioè è questo Che noi Noi chiesa Sono d'accordo Con lei Siamo una colonia In Italia Abbiamo ancora Mi pare 111 o 112 Basi Americane Cioè noi siamo Occupati Ma sarebbe Una cosa anche Dalla quale Potremmo venirne fuori Non le consideriamo Facciamo come Craxi Andiamo a Sigonella E li accerchiamo Noi gli americani È che veramente Siamo proni A quello che diceva Obama A quello che diceva Clinton A quello che dirà Trump Adesso Noi dobbiamo Reimpossessarci Ma vede Vede chiesa Lei che è persona Di specchiata cultura E lei che parla bene Della Russia Anche perché c'è stato Un bel po' di anni Mi pare di ricordare Ecco Si mi pare di ricordare Cioè Noi dobbiamo Reimpossessarci Di quello che eravamo Noi siamo Noi siamo italiani Siamo la culla Di tutto quello Che gira per il mondo Noi siamo la culla Della civiltà Siamo la culla Del diritto Adesso siamo diventati La tomba Del diritto Ma questo è un altro discorso Ha ragione Simone Di Stefano Quando dice Che dobbiamo In qualche modo Retoricamente Alzarci in piedi E ridiventare un popolo Non siamo un popolo Siamo Io Spesso Mi definisco Ci definisco Gli italiani Quasi un gregge Anche se le pecore Sono un po' simpatiche Però non possiamo più Essere un gregge Perché poi veniamo Mangiati dei lupi E i lupi chi sono? I lupi sono i finanzieri Sono i banchieri Sono quelli che hanno Privatizzato Tutte le banche Cioè Noi abbiamo La banca d'Italia La banca d'Italia Potrebbe stampare denaro La banca d'Italia Ha il 94% Proprietà dei privati Cosa vuoi stampare? Finisco Facendo un piccolo esempio Qualche anno fa In Giappone C'è stato il disastro Di Fukushima Uno dei più grossi Disastri Degli ultimi 50 anni I giapponesi Cosa hanno fatto? Hanno creato Hanno stampato Dal nulla Circa Al cambio 350 miliardi Di euro Perché? Perché loro hanno La sovranità Oltre che avere La sovranità nazionale Hanno anche La sovranità monetaria Hanno risistemato tutto E il Giappone È comunque Sempre una potenza E loro se ne fregano Nel debito pubblico Che è al 230% 240 Sì 240 Io ero rimasto Al 230 Ma galoppa Ecco Se ne fregano Perché? Perché hanno Un'economia forte Noi nonostante La crisi che stiamo vivendo Abbiamo una bilancia commerciale Che è comunque attiva Per cui potremmo Permetterci di avere Come l'avevamo Fino al 2001 Uno una moneta nostra Per quanto bistrattata fosse Ma si viveva meglio Quando avevamo la lira O si vive meglio adesso? Agli ascoltatori La risposta? Prima di dare la parola Agustinicchi Io vorrei farvi ascoltare Quello che aveva detto Prodi A proposito dell'euro E poi lascio a te la parola Ci vuoi rovinare la scena? Sì Ascoltiamolo No no Ma è giusto che I italiani Sappi che molto spesso Queste cose Non vengano dette Ed è giusto Che una televisione seria Come la nostra Racconti I fatti veri Che accadono Guarda che bella faccia Vediamo Vediamo Cosa ha detto? Vediamo Allora Credi che L'euro Finalmente Sopravviverà? Che cosa penso Sinceramente Che l'euro Il paese più potente Più forte D'Europa Grazie all'euro Pensate Quando Mi sono laureato Poco dopo Nel 1963 64 Mi sono laureato Nel 61 Il cambio Lira Marco Era 156 lire Per ogni Marco Tedesco Quando Con Cole Abbiamo Stretto l'ultimo accordo Per l'entrata Dell'Italia Nell'euro 999 80 lire Per ogni Euro Per ogni Marco tedesco Quindi abbiamo svalutato Del 600% Cioè di 6 volte Abbiamo svalutato La stessa cosa O simile L'hanno fatto Gli altri paesi europei E la Germania Non ha mai potuto Accumulare un surplus E la Germania Non ha mai potuto Accumulare un surplus E la Germania Non ha mai potuto Accumulare un surplus Oggi Solo nell'ultimo anno Ha avuto un surplus Quasi 200 miliardi Di euro Perché Proprio Guadagna E la vera Cina In questo momento E la Germania Allora Vedete Il populismo Trionfo I politici Compiacciano Il loro elettorato Ma quando arriviamo Al sodo La comunità Degli affari tedeschi Non ha Nessuna Intenzione Di abbandonare L'euro Questo è da fucilare Per quello che ha detto Cioè forse Non si sono resi conto Quello che ha detto Cioè lui ha detto Praticamente Che questa costruzione L'euro sta avvantaggiando In maniera Incredibile La Germania E noi abbiamo fatto Tutto questo casino Per aiutare la Germania Ma noi dobbiamo farlo Per aiutare il nostro paese Non la Germania Questo è altro tradimento Questo qui Facciamo parlare Quello che dice Professore Facciamo parlare È un pazzo Un populista Ha detto la verità Secondo Sì ma siccome è stato lui A farlo Merita Merita un processo Per alto tradimento Perché è stato lui Uno degli artefici E come no Prego Io parto Dalle loro considerazioni Parto dalla sua Da Bruno Cesaro Ha detto del Giappone Effettivamente Proprio questa mattina Kuroda Governatore Della banca del Giappone Ha detto che Non conta Quanta moneta Si stampa Ma come Essa viene scambiata A dimostrazione Che loro I 4.500 miliardi Per quel po' di popolazione Che sono Sono stati stampati A sufficienza E potrebbero stamparne Di più Quindi Benvenga la tua Idea Della moneta nazionale Che possiamo stamparla Anche perché Il bilancio commerciale Effettivamente è inattivo Però Nell'euro È inattivo Perché abbiamo aumentato La disoccupazione Soprattutto quella giovanile A livelli pazzeschi Quindi l'euro è Politicamente Insostenibile Per una forza Come quella di Di Stefano Che cura prevalentemente I giovani Apprezzo Ciò che ha detto Di Stefano Nei confronti Mi ricollega A quello che dice Giulietto Chiesa È vero che noi siamo Una colonia Attenzione Non degli americani Non ci facciamo Fregare Da questo punto di vista Noi siamo Una colonia Dei titolari Del partito Democratico Poche banche Di livello Mondiale Contro cui Trump Sta combattendo La guerra Che sta facendo È Pazzesca A dicembre Ha emesso Un documento Tramite il quale Metterà in galera Tutti i democratici E quindi Riuscirà In qualche modo A bloccare L'operato Del deep state Contro lui Vengo a lei Mi dice Non è un problema La moneta È un problema La poca figura Che fa la politica Degli anni In Europa Benissimo Se la moneta Non fosse un problema No no Aspetti Aspetti Ragioniamo sul livello tecnico Ragioniamo sul tecnico Io sono un tecnico Non un politico Le dico Lei adotterebbe Il dollaro Poi le dico Perché Io no Per esempio Io non ci penserei Benissimo Io non in grado Di darmi la risposta Vedi Questa è la dimostrazione Della pesatura Tecnica Di un politico E il dollaro Praticamente Per noi È Sarebbe Adottare il dollaro Vorrebbe dire Svalutare La lira Del 10% Vorrebbe dire Vendere molto di più Quanto? Lo sa? Un 10% Di svalutazione Comporta Qualcosa Tipo 15 miliardi In più Di export Che Su un 350 miliardi Di export Sono un valore enorme Non lo dico io Sono studi Delle maggiori banche italiane Delle maggiori banche italiane Viceversa Aspetti Giulietto Aspetti No 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 Sono correlazioni scientifiche Non c'è niente di scientifico Nella produzione artificiale di moneta Mi perdoni Si chiama elasticità della domanda al prezzo È molto semplice Si chiama elasticità della domanda al prezzo In un aspetto tecnico Invece Tenersi l'euro Significa che Se fino a ieri l'altro Vendevamo abbastanza Perché eravamo quasi Nella parità euro-dollaro A 1,08 Oggi siamo a 1,25 Non sa cosa accadrà Quando Mario Draghi Che si è infilato in un cul de sac Da solo Perché non potrà più difendere L'euro Quando il dollaro andrà a 1,40 Cosa accadrà? La morte tecnica Delle aziende italiane Che esportano 1,40 E il limite che gli industriali Ha individuato 1,40 sul dollaro Come impossibilità totale Di espandere le vendite all'estero E inizierà La recessione Da export Consideri che siamo già In recessione Da mercato interno Perché l'euro È una moneta Basata solo per l'export Che richiede La morte fisica Del mercato interno Due anni fa Quella cripe di due anni fa Quando già avranno iniziato a morire I nostri negozianti E quindi le aziende Che lavorano Per il mercato interno Vuol dire Consegnarsi Totalmente Al nostro principale Concorrente Che non è la Russia Che non è l'America Che non è Israele Che non è l'Inghilterra Ma è la Germania Fine Quindi Il modo di operare Dei polizi Che non hanno Un briciolo di competenza Da questo punto di vista Se generano una diffusione Di idee sbagliate Comporteranno Semplicemente La morte fisica Del nostro paese Eccoci qua Ancora in diretta Prima di fare alcune domande Al segretario nazionale Di Cassa Pound Mettiamoci in collegamento Sentiamo cosa da dirci Questa sera La signora Gina C'è pronto il collegamento? Sì ecco Ecco Passamola subito Veloce Pronto? Allora Il gino pensiero Sul caro amico Salvini Che avete visto Tutte le mirabolanti promesse Che adesso E fa in campagna elettorale È quella De tassare le prostitute Aprire le case E tassare le prostitute Allora Cosa pensa La ragina? Caro Salvini Tu lo sai Che quando uno Apre una partita IVA Alla rottura E lo stress Che deve comunicare Sempre ogni tre mesi Al governo Il cosiddetto spesometro Per cui la lista di clienti Dei fornitori Deve fare il redditometro Deve fare la dichiarazione IVA Se professionista È obbligato ad avere il POS Perché vuoi pagare in contanti E di conseguenza Deve avere il POS Per le carte di credito Per i bancomat Per cui caro Salvini Allora Cerchiamo di essere chiari Ok Tassiamo le prostitute Perché non ci sia evasione fiscale Ma la condizione che Comunicano l'elenco Anche loro Cospesometro Clienti Fornitori Incassino attraverso Il posto E la carta del credito E soprattutto Caro mio Facciano la dichiarazione IVA La dichiarazione di redditi Perché Tassare E considerare Le perdite IVA Dei prostitute Con le condizioni Che volete voi Dell'anonimato Non è più Un voler Salvare l'Italia Dall'evasione fiscale È rendere Legittimo E agevole Un qualcosa Di un vostro Istinto Di una vostra Manutenzione Diciamo Ordinaria Di quello Che non riuscite A tenere dentro Le mudande E allora A quel punto Visto che Dà la cicciolina Al Parlamento Ecco Che te viene Anche la bella Scoperta Di attingere Voti Fra tutti quelli Che ovviamente Ale Festa No Festa un corno Perché volemmo Nome Cognomi E tutto Regolare Anche Dell'attività Delle prostitute Perché Ricordati La prostituzione Non è che Nasce Perché c'è Un'offerta Nasce Per rispondere A una Domanda E allora Invece De pensare Che bisogna Salvare L'Italia Attingendo voti Da chi Non sa Tenerlo Dentro Le mudande Cerca De pensare Di istruire L'italiano A quello Che è Un rapporto D'amore E di rispetto Verso le donne Che forse Teghe più voti Da quella Parte Là Io So Per governare Un paese Ci vogliono I coglioni Ma Mi pare Che stiamo Un po' Esagerando Da quanti Ce ne sono Ciao Vabbè Simone Di Stefano Avete possibilità Concrete Di entrare In Parlamento Beh direi Veramente Di sì A questo punto Anche perché I risultati Recenti Delle amministrative Parlano Di Un 9% Ad Ostia Un 8% A Lucca 7% A Bolzano Insomma Risultati Ampli Diffusi Sul territorio Nazionale L'unica cosa Che manca A questo movimento Sostanzialmente È quel minimo Di spazio Mediatico Che le è sempre Stato negato Il sottoscritto È stato in tv Quattro volte Con questa cinque Negli ultimi due anni Di cui tre volte A fare un processo Mediatico E una volta In una specie Di pollaio In cui Vince chi strilla Più forte Quindi non c'è mai La possibilità Di parlare di politica Di programmi Di quello che vuole Casa Bound Della visione Dello Stato E della nazione E quindi Ahimè non c'è Possibilità di conoscere Veramente Casa Bound Però anche questo È uno scoglio Che verrà superato Perché da domenica Entriamo in par condicio E chi ha presentato Le liste Avrà diritto Ad apparire in televisione Come gli altri partiti Metteremo tutti i nostri Avvocati A far rispettare Questo nostro diritto Ed avremo anche noi I nostri spazi Teleisi Per parlare Finalmente di politica Giulia Un attimo Chiesa Voi La stessa domanda Vale anche per lei Ma io faccio la premessa Questa è una legge truffa Una vera e propria truffa I danni degli italiani Io non avevo mai partecipato All'elezione di questo genere Ma il percorso Per raccogliere le firme È costellato Di tali e tante difficoltà Che È un ripreso No no Non è un errore È un progetto Di tagliare fuori Un sacco di gente Quindi noi Stiamo combattendo In queste ore Per raccogliere Le firme sufficienti Per presentarci C'è la parete Io penso Noi abbiamo già coperto Quali tre quarti dell'Italia Però non abbiamo ancora finito E questa è una delle cose Che ci limiterà Ma comunque Noi abbiamo deciso Di fare La mossa del cavallo Noi siamo nati ieri Non è che in un minuto Si fa tutto Noi facciamo Abbiamo scelto Questa metafora Del cavallo Perché il cavallo Per chi sa Cosa sono gli scacchi È l'unica pedina Che scavalca gli altri Cioè bisogna saltargli sopra Questi qua Bisogna aggredire In qualche misura Politicamente Questa classe politica Che è morta Intellettualmente Tra l'altro Lo dico Senza mezzi termini Noi abbiamo presentato Un programma Che sta scritto Da due mesi È scritto Questo programma Nessuna delle forze politiche Di governo Anche Casa Pound Loro non hanno presentato Un programma Finora stanno dicendo Chi va con chi Tu stai con quello Che ti allega Però che cosa volete fare Non si sa mica La questione Quindi io non lo so Se andiamo in Parlamento Io penso che ci possiamo arrivare Apriamo una battaglia Una delle quali Battaglia la più importante È quella del sistema Della comunicazione Noi nel nostro programma Abbiamo scritto Un punto specifico In cui diciamo Che le frequenze radio televisive Sono un bene pubblico Che non ci può essere democrazia In un paese In cui 60 milioni di persone Non sanno Che cosa sta succedendo Né in Italia Né nel mondo Quindi queste frequenze Devono essere restituite Agli italiani E distribuite Sulla base di programmi E non solo Ma io insisto Sul fatto Che la televisione Deve essere gratis Per tutti Nel senso Che deve essere Finanziata Con il denaro Dei cittadini Io non considero Che la salute pubblica Sia meno importante Della salute intellettuale Della gente Perfetto Volevo dire qua Veloce Perché devo fare Alcune domande Importanti Perché Ha l'occasione Per chiarire Tutti e due Che sono Quelli che si presentano È giusto Che si presentano Io Scusa Casomai è una mattina Dalle 6 alle 9 Si Si ha voglia Viene da me Al mattino Perché abbiamo Una televisione Molto importante Siamo a piena disposizione Di tutte le televisioni Che vogliono Benissimo Così anche Io per Skype Perché sto a Roma Quindi non è che mi sarà facile Ma anche lui Non è mica qua Io per Skype Per un mese Fino al giorno del voto Sarò ovunque Comunicherò Ci teniamo in contatto Perché è giusto Che anche il pubblico Del mattino Lui è un Un assiduo Frequentatore Del mattino E sa Quanta gente Ci segue Insomma Quindi in tutta Italia Abbiamo veramente Tanti Mi chiamate Ecco Chiesa Sicuramente Lo sa anche Uno dei nostri Qua in pubblico Sa che cosa vuol dire Partecipare al mattino Rapido e veloce Sono curioso Mi ha chiamato in causa Quindi è doveroso Di una risposta Quindi Ah Torniamo un po' indietro Non possiamo aspettare Quando ritorniamo Perché voglio parlare Di fact tax Abbi pazienza Scusami No ma volevo dare una risposta Vabbè No certo La risposta la darei Fra poco Perché voglio completare Questo per tutte e due Ma soprattutto Con Simone Dice Vi dipingono ancora Come estremisti Ma in realtà Il vostro programma È sul rispetto Costituzionale E dei diritti Dei cittadini In uno stato sociale Se lo dicono Gli altri Però Passano per moderati Sì È chiaro che Casa Bonda Viene dipinta Come un movimento Radicale ed estremo Perché Sicuramente fa paura Ciò che Casa Bonda Sta portando avanti Come programma politico Perché ripeto Noi ad oggi Siamo gli unici A chiedere Un'uscita unilaterale Dall'Euro E dall'Unione Europea E mettiamo in campo Una visione dello Stato Che può dare speranza A questo popolo Cosa che è stata Assolutamente disattesa Quindi veniamo visti Come il fumo negli occhi Poi è chiaro che abbiamo Diciamo così Una Visione ideologica Ben precisa Siamo presenti Nei quartieri più difficili Spesso e volentieri Veniamo attaccati Dai nostri avversari politici Anche fisicamente E certo Non ci facciamo cacciare Dalle piazze Però noi vogliamo Riprenderci questa nazione Insieme a tutti quanti Non vogliamo dividere il popolo Noi pensiamo che I nemici della libertà Oggi sono quelli Che siedono in Parlamento E che già si preparano Fra un mese e mezzo A governare insieme Di nuovo questa nazione Dopo che la governano Insieme da cinque anni Da quando c'è Mario Monti Fino ad oggi Hanno governato insieme Silvio Berlusconi Il Partito Democratico Di Matteo Renzi E lo faranno ancora Purtroppo con i voti Dei tanti italiani Dei tanti italiani Che ancora credono Alle fandonie dette da Silvio Quindi rispetto Costituzionale E diritto ai cittadini Ah quello sicuramente E voi? Noi ho detto Abbiamo un programma Economico Per rilanciare l'Italia Ribadisco il concetto Dei certificati Di credito fiscale Esiste la possibilità Di fare una moneta Parallela Che non farà aumentare Il debito dello Stato Perché non è Non è prevista Dai meccanismi europei Tra l'altro Gli economisti Con cui noi abbiamo lavorato Hanno fatto un'interrogazione Proprio a Draghi Alla banca E hanno detto Se un paese dell'Eurozona Si costruisce una sua moneta Di questo tipo Certificati di credito fiscale L'Europa avrebbe qualcosa da dire E l'Europa ha risposto La banca centrale europea Ha risposto Che questa non è questione Che riguardi la banca centrale Il che vuol dire Che possiamo farlo Sostanzialmente E quindi potremmo mettere In circolazione Siccome qui si è parlato Di denaro virtuale Lo fa la banca centrale europea Non si capisce Perché non lo può fare L'Italia Che ripeto Ha una banca pubblica E che senza violare Gli attuali trattati europei Può produrre Il proprio denaro Virtuale Questo lo si può fare Facciamolo vero E mettiamolo in tasca Ai lavoratori Questo denaro Invece di farlo virtuale Cioè non smettiamo Con questa logica Di chiedere il permesso A Mario Draghi Abbandoniamolo Al suo destino Con la sua banca centrale Non c'è da chiedere Nessù permesso Stampiamo la nostra moneta E mettiamo le tasche Ai lavoratori e ai cittadini Scusate di state Una breve notazione Qui noi diciamo Faremo Vorremmo Il problema è che ci vuole Una maggioranza politica Per farlo Perché se non abbiamo Una maggioranza politica Non si può fare niente Cioè io stesso Che faccio questa proposta Sono consapevole Che il problema centrale È che si sposti L'opinione pubblica Se l'opinione pubblica Non capisce questa cosa Io posso andare in Parlamento A strillare quanto voglio Non si muoverà un dito Per quello che dico Che la questione principale Sono i rapporti di forza Politici Se non si ha la forza Si può dire Quello che si vuole Uscire dall'euro Che vuol dire uscire dall'euro Vuol dire dire agli italiani Che devono restituire 540 miliardi di euro Del debito Questo è il problema Chi è che va a dire agli italiani Che devi restituire 530 miliardi Che è il nostro debito Scusi Credo ai rapporti di forza A chi li dobbiamo Io credo Alle banche europee Ai quali li dobbiamo Ma è molto semplice Ma non agli italiani Io quello che dico è Chi se la sente Di dire agli italiani Di fare una bella manovra Volante Di 530 miliardi Nessuno lo può dire Ma scusi Mi perdoni Nessuno lo può dire Fare allarmismo Nei confronti degli italiani È come dire Domani l'altro Ti buttano la bomba atomica Adesso lei Gentilmente agli italiani Mi perdoni Mi perdoni No mi perdoni Sei tu che hai interrotto me Scusi un istante Mi perdoni Io ti sto dicendo Che forza hai tu Per proporre questa soluzione Qual è la tua forza politica Dica agli italiani Con chi Dica agli italiani Siamo qui per dirglielo Il problema è cambiare I rapporti di forza Non cambiare la moneta Non puoi dire Cambi la moneta Mi perdoni Ma dopo devi fronteggiare Il mercato mondiale Lei ha lanciato Una bomba italiana Ha lanciato Una bomba atomica italiana Va bene Lì ci sono italiani Non so quanti ce ne sono Anche fosse uno solo Ha il diritto di sapere Dove le ricava Queste informazioni In base alla quale Dovremmo restituire Quanti miliardi Ha detto 530 miliardi Me lo dica Dove Chi le deve restituire A chi Ho letto i giornali Come le Mi sono consigliato Con i miei economisti I giornali Le dicevano Che la Brexit Non sarebbe mai avvenuta I giornali Le dicevano Che Trump Non avrebbe mai vinto Ma io faccio Il giornalista da 40 anni Senta Il sono 24 ore E il sull'orlo Nel fallimento Io faccio il giornalista da 40 anni Perché è il sull'orlo Nel fallimento Secondo lei La validità Delle cose che leggo Io mi sono consigliato Con gli economisti E so Che di fronte a noi Ma senta C'è un gigante Possente Che vale 500 volte Le nostre film Vabbè Abbiamo capito Non c'è accordo Due minuti fa Del Giappone Uno dei più grandi Economisti Riconosciuto in Italia Come mainstream Zingales Nel 2013-14 Disse La differenza Che c'è Fra Tokyo e Atene Sono due anni Siamo nel 2017 Il Giappone Il Giappone 2018 Si compra tutte le fabbriche italiane Noi non ne compriamo neanche una Sì sì Ma noi chiudiamo Allora lei si può Le chiudiamo Si può Non c'è 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 La Grecia è differente Come non la voglio io Dopodiché La Grecia è andata a Bruxelles E loro gli hanno detto Staremmo Vai avanti così E ti chiudiamo i banchi Così Ti chiudiamo i banchi La Grecia produce ottimi formaggi Olive E pochi altri prodotti Noi facciamo la grande industria Facciamo le armi Facciamo i treni Facciamo l'acciaio È una nazione industriale È una nazione che esporta tutto il mondo Possiamo uscire dall'euro Quando vogliamo Senza problemi Proprio perché siamo una nazione Che sa ancora fare tutto Se perdiamo La discussione Se noi ci lasciamo Deindustrializzare Dalla Germania E dalla Francia Perché questo è il tiro Che anche noi Finiamo a produrre Solo formaggi e olive Noi non potremo mai più acquistare La nostra libertà Io ho detto all'inizio Tutte le leggi europee Alle quali siamo sottoposti Sono anticostituzionali Appunto Cancelliamole Via Nel nostro programma Noi diciamo Che tutte le leggi europee Che violano la Costituzione Vanno ripudiate Se necessario Anche unilateralmente Questa è una proposta politica Io voglio applicare la Costituzione Tu hai detto che vuoi applicare la Costituzione Noi abbiamo già dimostrato Che tutte le leggi europee Il trattato di Mastica Il trattato di Lisbona Il fiscal compass Sono tutti contro la Costituzione L'articolo 81 L'articolo 81 Allora Io mi pongo politicamente Mi pongo Mi pongo politicamente Di fronte alle forze politiche italiane Avete violato la Costituzione Bisogna ritornare nella Costituzione Questo è un passaggio politico Poi se ti dicono di no L'unica cosa che vuoi fare Ti rivolgi al Paese Dice Questi signori hanno violato la Costituzione Voi avete votato Il 60% Per mantenerla Vi chiediamo Di non concedere fiducia A queste forze politiche Fermila Convincere gli italiani Forza Siate rapidi Perché tempo ragazzi Scappa via Prego Condivido molto di quello Che pensavo di Giulietto Proprio sul fatto che noi In realtà stiamo subendo Siamo veramente colonia Dell'Europa Noi stiamo Una classe politica Che ci sta Una classe politica Che non è in grado Di difendere i nostri interessi Le nostre industrie Le piccole e medie industrie I nostri risparmiatori I nostri cittadini Vengo a lei Allora lei mi fa una domanda Le faccio anche io una domanda Lei si ricorda Cosa successe nel luglio Del 1992 No Bene Me lo dica Me lo dica lei Non me lo dica Me lo dica Mi dica dove vuole andare a cadere Cosa successe nel luglio Del 1992 Cosa successe Me lo dica Io ero al mare Lo so cosa successe Non lo sa Allora glielo dico io Vediamo Nel 1992 Nel luglio Un presidente Che si chiamava Amato Fece un prelievo forzoso Su tutti quanti i depositi E lei si ricorda Qual era la moneta in vigore Secondo lei perché fece Mi faccia finire Lei si ricorda Qual era la moneta in vigore Era la lira Ma lei lo sa Perché lo fece Allora io quello che voglio dire Non è il problema dell'euro Qual è il motivo Mi faccia parlare Non può parlare lì Mi faccia parlare Sta ingannando l'italiano Ma dopo parli tu Abbia la pazienza di far parlare gli altri Dai Allora ne sto dicendo Nel luglio del 1992 La moneta in vigore La moneta in vigore era la lira Il presidente Amato Fece un prelievo forzoso Con un'operazione speculativa Stava mandando il paese a carta 48 Mi perdoni Io quello che le voglio dire Aspetta un attimo Non è un problema di divisa Scelga lei Lo yen La lira L'euro Il dinero La pesetta Scelga lei la moneta che vuole A me interessa avere una classe politica Una classe dirigente Che per competenza Capacità e professionalità Sappia gestire i risparmi degli italiani I risparmi delle piccole e medie industrie Quello che è il patrimonio dell'Italia A me non interessa la moneta A me interessa una classe politica Capace di fare il suo mestiere Di difenderci dei posti opportuni dell'Europa Di capace di difendere i nostri interessi E non di essere qui forte Spalle grosse in Italia E quando vai in Europa Invece zerbino di tutti Questo non è il modo Io come cittadino chiedo questo La difesa del mio patrimonio Dei miei soldi Non che venga svaluppato Non che venga svalutata Come la Grecia Dove alla fine chiudono le banche E la gente non ha neanche più Non ripetete i concetti Io questo credo Chiedo questo E non è un problema di divisa È un problema di capacità politica Nella classe politica Non nascondiamoci Non nascondiamoci dietro all'Euro È un problema di capacità politica E di dignità Lo rispondo io Io vengo la mattina a me Perdoni Nel 92 Avevamo finito le riserve Posso rispondere? Sì Lei mi deve fare No due secondi Avevamo finito le riserve Avevamo finito le riserve Non c'era la lira Perché non c'era la lira Senta mi perdoni Adesso lì ha parlato Parlo io Prego Avevamo terminato le riserve Per difendere un cambio Improponibile Avevamo terminato le riserve Avevamo bisogno di svalutare la moneta Però Siccome c'era il mantra Che la svalutazione Avrebbe generato l'inflazione In contemporanea Fu fatta una manovra fiscale Finalizzata a contenere l'inflazione Tramite riduzione dei consumi E' una semplice Normalissima Banalissima Applicazione Di quattro leve macroeconomiche Tutti contenti Quella sera lì 6 per mila sui depositi Tutti contenti eravamo E c'era la lira Sentiamo il professore Tutti contenti eravamo Puoi vuole sentire Buono Prego Signore mio Rapidi per farlo Fra la notte Fra il 9 e il 10 luglio Nel 92 Ci fu il prelevo del 0,6 per mille 0,6 per mille Lo sai quanto fu L'intera manovra Del governo amato Di cui questo 6 per mille Era rubetta Erano spicci Rispetto all'intero Era 92.700 miliardi di lire Ha capito? 92.700 Lo sapeva Prima di parlare Aspetti Alte Fermi Documentiamo E lo sai il motivo Per il quale nel luglio Avvenne questo? Perché il 7 febbraio del 92 Cioè qualche mese prima Degli imbecilli Hanno firmato Il trattato di Maastricht E sapendo ai mercati Che noi ci eravamo messi Il cappio al collo Va bene Ci hanno fatto Un sedere così Ha capito Bravo Esatto Altra cosa Lei Esatto Però quello Era in funzione del fatto Che era Stato preso Non mi fa parlare a me Perché prima Scusi Apre pazienza Anche per rispetto Alle persone Che stanno a casa Se non capiscono niente Se parlate sopra Guardate poi Rischiano di non invitarvi più Ognuno dice Il prelievo insieme al resto A settembre È nient'altro No lui dal suo punto di vista No lui dal suo punto di vista La fece benissimo Perché gliel'abbiamo Scusi Penna lo yen Penna quello che vuole No noi prendiamo Ma non ha capito Che la classe politica nostra Non può fare nulla Se non si riappropia Tutto quello che dice Non può essere effettuato Se la classe politica Non si riappropia Dalla propria politica economica Perfetto Se la decide la signora Merkel O signor Draghi Su questo sono una foto con lei Allora Questo sto dicendo Brun Cesaro Sentiamo Brun Sentiamo Brun Questo sto dicendo Ma Allora Mi pare che non Non ci siano grandi Tifosi dell'euro In questo In questo parterre Questa sera Però francamente Bisognerebbe Spostare dal mio punto di vista L'ottica Sull'aspetto politico Piuttosto che Sull'aspetto economico Perché L'economia Nello Stato Che io ritengo ideale L'economia Deve Sottostare Alle decisioni Della politica Io ricordo Che ai tempi Della prima repubblica I politici Non tutti Ci mancherebbe Infatti Di Pietro ha affermato Che il movimento Sociale italiano Era l'unico partito Che non era stato Indagato Che non aveva preso soldi In quel periodo lì Ma Questo è Un inciso La politica A quel tempo lì Rubava Probabilmente Quasi tutta Molta Però Era la finanza Che chiedeva Qualcosa Alla politica Armando Ma mi fai l'eco Cioè tu fai il moderato Di norma E vuoi fare l'estremista Proprio stasera Con tutti questi estremisti Lascia perdere Lasciami parlare Poi quando finisco Mi interrompi Voglio dire La politica Aveva il pallino in mano Adesso il pallino in mano Ce l'ha l'economia Ce l'ha la finanza Cioè sono i politici Che mendicano Le prebende Alla finanza Ed è questo Che non ci può stare A ragione Della Bella Da un punto di vista politico Non economico Economicamente ne ho sentite Un po' di tutti i colori Però Da un punto di vista politico Ha ragione Della Bella Che dice Che se non abbiamo Dei politici Cioè qualcuno Che governi Questo paese Che sappia Quello che fa Noi potremmo cambiare Tutte le forme economiche Che vogliamo Ma comunque Ma comunque Non ne verremo fuori No Poi Una cosa No vabbè Ma questo è la mia È la mia Ma non lo so Ma l'altra parte Ma io faccio già fatica A essere d'accordo con me stesso Fa conto se mi metto A essere d'accordo con gli altri Ma poi No 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 Ma lasciate stare Ma quello che Prima Giulietto Chiesa Che è un uomo Che ha vissuto Si può dire che ha vissuto Ha vissuto Ha fatto tantissime esperienze Io l'ho anche seguito Qualche volta Insomma Quando prima parlava della Russia Me la ricordo Quando era lì In Russia In Unione Sovietica Anche addirittura Russia e Unione Sovietica E Russia E Russia Ecco Ma diceva Non abbiamo La possibilità di incidere Non abbiamo la forza Lei si ricorda Mark Twain Che non era propriamente russo Ma diceva Che se votare Servisse Realmente a qualcosa Voi pensate Che ce lo farebbero fare No Non ci farebbero votare Se servisse a qualcosa Oggi Ho seguito Una trasmissione Dove c'era un comunista Che diceva Che il Duce Ha avuto il consenso Perché aveva in mano L'Istituto Luce Lei Aveva in mano La propaganda Ma adesso Cos'è cambiato? A parte la persona Che ci governa Le persone che ci governano A Roma E immagino Che voi pensiate Come le reputo Rispetto a quello Di 80 anni fa Ecco Ma cos'è cambiato? È cambiato Che Simone Di Stefano Per esplicitare Il suo programma Elettorale Non lo può fare Perché va Io l'ho seguito In qualche trasmissione Dove è messo all'agonia Dove è processato Per crimini Che lui non ha mai fatto Lui sta dicendo delle cose Che penso che il 90% Degli italiani Pensano Lo tacciano di Ti posso Una difesa d'ufficio Perché io ho fatto Un percorso simile Al suo Insomma ecco E quando lo tacciano Di estremista Io non mi Non mi offenderei Cioè io Quando voi Fate uno sport Quando voi amate Quando voi lavorate Quando voi correte Ma siete moderati O estremisti Cioè io mi considero Un estremista Perché quando faccio le cose Le faccio con passione Con cuore Estremista Non è una brutta parola È molto meglio Di essere un moderato Di quelli che vanno D'accordo sempre con tutti Di quelli che predicano Noi vogliamo La famiglia tradizionale E hanno 12 mogli 40 compagni 60 figli Fate con Con una pletora di donne Che non si ricordano Neanche più come si chiamano Ma è questo Essere moderati Ma mille volte È meglio essere estremista Anche se magari Simone non vuole più Essere considerato Un estremista Ma io Anche perché non lo è Ma no Ma non lo è Ma cosa vuol dire Ma avere un pensiero estremo Dal mio punto di vista È piacevole È bello È positivo Cioè non lo so Per cui Io voglio capire Prego Siccome volevo Sottolineare Prego Prego Si potrebbe dire Che uno I banchieri La legge elettorale Perché Questa legge elettorale È una truffa Che ci impedisce Di andare in Parlamento Molto semplice Chicellini Veloce Pronto Pronto Buonasera Mi chiamo Gianluca Sono di Roma Non l'hanno mai chiesto Che è venuto Che è venuto da tanto Da Roma Perché deve far capire Gli italiani Qual è la posizione Circa per esempio Sui migranti E sia la sicurezza Perché qua Sulla sicurezza Proprio Non ne possiamo più È una cosa Dicono per televisione Ma non è vero Non succede niente Invece ragazzi Qui è diventato Proprio Un disastro Qual è la vostra posizione Anche qui è una questione Di sovranità Perché se uno Stato Non ha la sovranità Ripeto Anche della propria moneta Del proprio bilancio Quindi del proprio destino Non può mettere in atto Quelle misure che servono A fare ciò Che va fatto Ovvero Rispedire Rimpatriare Le persone Che si trovano qui E che non hanno Mezzi di sostentamento Provi Chi non ha la casa Chi non ha il lavoro Chi non ha possibilità Di autosostentarsi Deve necessariamente Tornare nel paese d'origine Per far questo Noi lo possiamo fare solo Se riusciamo a fare Accordi bilaterali Ben precisi Con i paesi di provenienza Quindi magari Immaginate uno Stato sovrano Che va in Nigeria E dice alla Nigeria Guardate Qui da noi ci sono Ottantamila Centomila ragazzi Nigeriani Che stanno a spasso Stanno nel centro d'accoglienza Con le cuffiette In attesa di Diciamo di trovare un lavoro Che non ci sarà mai Cosa vi serve in Nigeria Dobbiamo asfaltare le strade C'è da fare gli ospedali Gli acquedotti Campi solari Tutte cose che l'Italia Sa fare benissimo Perché è la nostra vocazione Quella di edificare Lo Stato Tramite le infrastrutture Per cui Uno Stato sovrano Potrebbe fare un accordo Bilaterale con la Nigeria E dire Ok veniamo noi Asfaltiamo le strade Costruiamo le case E gli ospedali Però per favore La mano d'opera Da mettere su queste cose La fate fare Ai ragazzi nigeriani Che si trovano in Italia Così che noi possiamo poi andare al centro d'accoglienza Suonare Presentarci con una bella pala E dirgli Tu sei venuto qui per lavorare Vai Stiamo a casa tua Ricostruendo la nazione Fai il tuo dovere Come l'hanno fatto i nostri nonni Tanti anni fa Questa è la pala E dimostraci che sei venuto qui per lavorare E non per fare il cantante rap Con il carpellino rigirato Benissimo Una prospettiva di sviluppo Per noi E per l'Africa Il ruolo dell'Italia Nell'Africa Deve tornare ad essere quello Di una nazione guida Amica Che rimette in piedi Ciò che oggi è devastato Totalmente Dalle multinazionali Del grande capitale Quindi questo è il ruolo dell'Italia Per far sì che Queste persone Tornino indietro Fantastico Meno male che è un estremista Porca miseria Allora io ho detto Io ho due o tre argomenti ancora Perché voglio capire esattamente Per esempio L'amico Simone Deve raccontarmi Che cosa è stato A proposito La famosa testata di spada Perché qualcuno Ha detto che voi siete I colpevoli I favotori Vi hanno Quindi Rai 1 Rai 2 Rai 3 Rai 4 Rai 5 Rai 9 Rai 10 Tutte le televisioni Che sono Cosiddette populiste Altro che noi altri Hanno dato la colpa A voi altri Ma prima di questo Perché voglio questa spiegazione Rapidamente Tu cosa Non fate più polemiche Sull'euro Rapidamente Rispondi Un minuto Poi ti interrompo Un minuto Volevo spiegare Un minuto Ai due signori Perché loro Sbagliano Cioè Non rispondete Secondo voi Secondo voi La gente tipo Ridalei La gente tipo Tipo Renzi La gente tipo Gentiloni Oppure Zipras Oppure Hollande Secondo voi Non hanno mai provato A fare qualcosa Di nuovo Di utile Per il popolo Non ci riesci Nell'euro Perché l'euro Purtroppo È la moneta Che serve Alle grandi banche Internazionali Per spolpare i paesi Serve per mantenere La disoccupazione elevata Quindi Chiunque dica Io voglio fare qualcosa Dentro l'euro Per i miei italiani O per i miei cittadini Francesi Che siano Sta semplicemente dicendo Mi voglio sostituire Politici attuali Per mettere a posto La pensione Quindi sta ingannando Il proprio popolo Non ce la farete mai Ecco E lo dovete dire Chiaro al cittadino Per favore Spieghiamo questo Che è molto importante Italiani Ascoltate La spiegazione vera È proprio colpa vostra Centrate qualcosa In quella No Diciamolo No 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 È un evento Che sicuramente Ha caratterizzato Appunto le elezioni Locali su Ostia E poi si è cercato Di dire Che Casa Pound È Violenta A parte violenta Ma collegata Alla mafia Che fa voto di scambio Perché porta Gli aiuti alimentari Nei quartieri più deboli Nella realtà dei fatti A distanza di Ormai Qualche mese C'è stato Ieri Ovviamente le cronache Ne hanno parlato La retata Che ha portato Tutto il clan In carcere Comprese le persone Legate Al clan Non c'è nessun Indagato di Casa Pound Non c'è stato Nessun arrestato Di Casa Pound Perché ovviamente Non c'è nulla Ma oltre Il dato fattivo Che è stato riportato ieri Vi posso dire Senza poter mostrare Il documento Perché è segretato Che si è riunita La commissione antimafia Su nostra richiesta Ricorderete Che abbiamo chiesto Specificatamente Che si facesse luce Ce l'abbiamo chiesto Nei per primi Su questo caso Si è riunita La commissione antimafia E le più alte cariche Dello stato Al punto di vista Investigativo Quindi il capo Della polizia Il capo dei ROS Hanno detto Alla signora Rosi Bindi Che li incalzava Che non c'è nulla Che possa Diciamo così Riguardare un rapporto Fra Casa Pound E qualsivoglia Organizzazione criminale O mafiosa Questo è stato ribadito Dai vertici Della polizia investigativa La Rosi Bindi Non contenta Ha continuato Di incalzare I vertici I vertici Gli hanno detto Non ci faccia pressione Perché la realtà è questa Noi facciamo il nostro lavoro Se lei vuole ottenere Una risposta politica Da noi Non l'avrà Quindi questo È stato certificato Dalla commissione antimafia Del Parlamento Presente anche Il senatore Sposio Del Partito Democratico Che tanto bene ci vuole E infatti Non ha più pronunciato Una parola riguardo Casa Pound E la criminalità organizzata Quindi questo è Un dato di fatto C'è un foglio Della commissione antimafia Che è nelle nostre mani Che non può essere replicato Perché è secretato Ma che può essere messo A disposizione Di qualsiasi giornalista Lo voglia leggere Soltanto prendendone visione E non replicandolo Per cui invito Tutti gli esponenti Del Partito Democratico Che ci seguono A non utilizzare più Questa argomentazione Perché le querele fioccano E con questo foglio Verranno vinte facilmente Da Casa Pound Perfetto Ecco Applausi Applausi Allora Vediamo subito L'altro argomento Che è molto importante Serve Soprattutto per voi due Che siete Candidati Guardate quante promesse Poi voglio sentire Da tutti e due Qualora Aveste non so Doveste avere Doveste avere la vittoria Ecco Nei primi cento giorni Che cosa farebbe Giulietto Che cosa farebbe Simone Le promesse ai marinai Allora Simone Primi cento giorni Siamo eletti Vediamo Intanto vorrei dire Che la situazione Per quanto era simpaticissimo Il servizio È drammatica Perché ahimè Qui veramente Il 5 marzo Andiamo incontro A un governo tecnico Che sarà letale Perché verrà a finire Il lavoro di Mario Monti E Silvio Berlusconi Già ha promesso Di far parte Di questo governo tecnico Quindi la cosa è Devastante Cento giorni Ovviamente Con la vittoria Si dice Quando Cosa fareste Bisogna avere La forza politica Ovviamente si tratta Di convincere gli italiani A votare per noi E in caso di vittoria assoluta Prendersi le responsabilità Di governo Cosa fare al governo La prima cosa da fare In maniera Più rapida E più dura possibile È appunto Uscire dall'euro E uscire dall'Unione Europea Per fare questo Può essere fatto Immediatamente Al primo giorno di governo Con una serie semplici Di decreti legge Che vanno a Colpire sostanzialmente La moneta unica E a tornare alla sovranità Dobbiamo Prima di tutto In questa fase di passaggio Che serve per tornare La nostra moneta sovrana Sicuramente Nazionalizzare Per il tempo Della transizione Il sistema Bancario italiano Rimettere la banca centrale Sotto il controllo Del ministero Di economia e finanze Ma anche nazionalizzare Tutte le banche Per evitare L'inevitabile Fuga di capitale E mettere Tutto lo Stato In questi 14 giorni A fare questa transizione Per far sì che Il secondo lunedì Dopo l'insediamento Del governo Possano già uscire Le nostre monete sovrane Dai nostri banco Ma questo può essere fatto Tranquillamente Non credete a chi vi dice Che non può essere fatto Ma va fatto così Perché se noi Non lo facciamo Drasticamente E immediatamente Verremo travolti Dalla reazione Dei nostri partner Europei Che come tanto tempo fa Getteranno il nostro Debito pubblico Sul mercato Faranno schizzare Lo spread La gente Per paura Sposterà i capitali Mentre i capitali In quei 14 giorni Sarà assolutamente Proibito Spostarli dall'Italia E portarli altrove Quindi Nella massima fiducia Del popolo Nei confronti Del suo governo E della sua nazione Bisogna rimanere uniti Non bisogna impaurirsi Perché la paura E ciò che ha fatto sì Che in Grecia Ad esempio Si arrivasse poi Alla corsa agli sportelli Tutto artatamente Montato Anche dai media Quindi In piena sicurezza Con la determinazione Che serve Si può in quei 14 giorni Uscire dall'euro Poi di conseguenza Gli altri punti Del nostro programma Abbiamo tante cose interessanti Che si possono realizzare subito Uno è il reddito nazionale Di natalità Ovvero mettere 500 euro al mese Da 0 a 16 anni Per tutti i bambini Italiani Che nascono sul nostro territorio Vogliamo nazionalizzare Le autostrade Per metterle sotto il controllo pubblico Attenzione Le strade sono già nostre Non c'è bisogno di nazionalizzare le autostrade Quando diciamo nazionalizzare Intendiamo revocare le concessioni Che oggi sono state date A delle multinazionali Con contratti Di cui non sappiamo niente Perché quelli anche sono secretati Quindi prendere le autostrade Rimettere sotto il controllo pubblico E fare la tariffa unica annuale Così come c'è in Germania Così come c'è in Austria Così come c'è in Svizzera Facendo sì che gli italiani Paghino 80 euro l'anno Con un bollino Da metto Bollino fisso Insomma Bollino fisso E lasciamo questa enorme ricchezza Che oggi mettiamo nelle tasche Di Benetton Ma anche di Goldman Sachs O di BlackRock Che è il fondo speculativo Che partecipa a Atlantia Lasciamola nelle tasche Dei lavoratori italiani Degli imprenditori Che usano l'autostrada Per liberare Come l'Austria Dobbiamo liberare la ricchezza E lasciare i soldi In mano a chi lavora Bene Giulietto È qui un programma Con i controfiocchi Un programma di sinistra Io non voglio polemizzare Dico semplicemente Che non è realistico Noi quando pensiamo Una vittoria Pensiamo di entrare Con un drappello Di deputati Nel Parlamento E questa è l'unica vittoria Alla quale possiamo pensare Quindi È inutile dire Che cosa farei Guarda che ho detto Se fossi Anche noi puntiamo a questo Se fosse Premier Come Premier Ma è una risposta Che non funziona Se fossi Premier La prima cosa Che dovrei fare È convocare Un gruppo di persone Nelle quali ho fiducia Alle quali farei Cominciare a impostare Il programma Perché io sono una persona E l'ho detto prima Non sono un economista Io sono un giornalista Conosco la politica internazionale E una cosa che conosco Sono i rapporti di forza Li ho imparati Dal mio mestiere E quindi La prima questione Che mi pongo È Quanto sono forte io E quanto è forte Il mio nemico E quindi Io non posso fare Un programma Inastrato Non avversario Nemico Nemico Perché noi abbiamo Dei nemici Io ritengo L'ho scritto L'ho detto cento volte Il mondo in questo momento È governato Dai padroni universali Che sono un gruppo Di persone Che hanno un potere Sterminato Rispetto al quale Noi facciamo Perfino fatica A immaginare E non sono Molto gentili Diciamo che sono Molto feroci Perché prendono Decisioni feroci Allora io non li sottovaluto L'unica cosa Che non faccio Però non dico Che non farei niente Entrerei in Parlamento Siccome abbiamo Un programma La prima cosa Che farei Tra l'altro Lo voglio dire Al grande pubblico Nel nostro programma Noi abbiamo detto Che la prima cosa Che potremmo Proprio una mozione Chiederemo Vaccini In tutto il mondo Sì Io però Non voglio anticipare I risultati Della commissione Straordinaria D'inchiesta Vorrei studiare Il problema E poi la questione Che ribadisco Questo Lo farei Quale che sia Il gruppo di deputati Che va in Parlamento Io direi La prima questione Per noi È il lavoro E quindi Bisogna impostare Un piano Di finanziamenti Ragionevoli Ho detto 200 miliardi Di euro In tre anni Per produrre Posti di lavoro Immediatamente Per la gioventù Italiana Giulietto Un punto d'intesa Fra voi altri Perché tutti siete Tutti siete rispettosi Me lo ha suggerito Anche un nostro amico Che è qua nel studio Tutti siete rispettosi Della Costituzione Un punto d'incontro Non si può avere Tra voi altri No? Il punto d'incontro È la Costituzione Per esempio Quest'idea Di mettere in circolo Denaro Per far ripartire il lavoro Ovvero Fare un piano Di reindustrializzazione La nostra nazione Va da sé Che è un punto comune Chiesa dice Di farlo Con una moneta fiscale Noi diciamo Di farlo Con la nostra moneta sovrana Stampata Immediatamente Però ecco C'è una visione comune Dal punto di vista Del lavoro Della stabilità Del lavoro E dell'aumento Dei salari E del raggiungimento Della piena occupazione Penso che siano obiettivi Che siano comuni A tutti i sovranisti È vero che fa paura Centrodestra Casa Pound? Beh facciamo paura A loro innanzitutto Perché mettiamo a nudo Questa fandonia Per cui si dice Che si uscirà dall'euro Come dicono alcuni amici Anche nella Lega Assieme a Silvio Berlusconi Che è una persona Che sta a piedi pari Nel Partito Popolare Europeo E che ha governato l'Italia Da sei anni Con il Partito Democratico Insieme a Mario Monti A Ricoletta Facendo il patto del Nazareno Quindi noi a questa fandonia Non crediamo E purtroppo Cerchiamo di far aprire Il più possibile Gli occhi agli elettori centrodestra Dicendo Attenzione Sbilanciate il voto Dall'altra parte Eleggete 12 deputati Di Casa Pound Ed evitate che vadano 12 futuri Alfano Verdini Perché si elegge Questa roba qui Votando il centrodestra Quindi se eleggete noi Saranno anche un po' Obbligati a stare sbilanciati Sui temi del soranismo Chi fa paura Centrodestra O centrosinistra? No Io li considero Alla pari Alla pari Tutti e due Non vedo nessuna differenza E se centrosinistra Chiedesse aiuto A voi altri? Sulla bari di quale programma Non ho ancora neanche visto Che cosa vogliono fare Vorrei sapere Che cosa vogliono fare Aiuto non ce lo chiederanno Comunque Perché le nostre proposte Sono secondo me Le più radicali Nel senso che sono concrete E sono possibili Si possono fare Forse temono di più queste Che grandi dichiarazioni Roboanti Che poi non avranno Lo spazio politico Per fare Però voglio fare una notazione Me lo permetti Scherzando un po' Casa Pound Ha una visibilità Decisamente superiore Alla nostra Il nostro simbolo Il cavallo che balza Non è ancora apparso Praticamente in televisione A noi ci hanno Totalmente ignorati Totalmente ignorati Se qualche cosa Vuol dire questo Vuol dire che temono molto Anche le nostre idee Tutto lì Noi lo faremo Adesso Sono invidiosi Perché loro sono degli asini Gli altri Bella questa Grazie della battuta Mi piace Noi ci consideriamo Cavalieri Un'altra cosa Vorrei Vorrei Da voi Da Bruno Cesaro Una cosa che adesso vi farò vedere Sulla fact tax Io Ragazzi Sto diventando matto Perché Non ho capito esattamente Che cos'è che si vuole Perché qui Se voi vedete Dice Cosa succede Da potere d'acquisto Con la fact tax Qualcuno dice Al 25% L'imprenditore Guadagna Cioè Il potere d'acquisto Va a più 2 Mentre all'impiegato Va a più 3,6 volte Poi Secondo punto La fact tax 15% Più 5 Il potere d'acquisto Per quanto concerne L'impiegato Che può investire di più Più 3 All'imprenditore Per quanto concerne Sempre il potere d'acquisto Poi dice Tax 0% Qui non ho capito Proprio un tubo 0% dell'area Poi me lo spieghi tu Cos'è questo 0% Ecco L'imprenditore Dice Va a 4 volte più Per quanto concerne Il potere d'acquisto E l'impiegato 6 volte In pratica Cioè Aumenta l'economia In maniera pazzesca Quello che mi pare di capire Ma Che verità c'è in questo Professore Bisogna Bisogna specificare una cosa Innanzitutto Cosa significa Flat tax Abbiamo il vizio Di tutti i nomi inglesi Allora Flat tax vuol dire Tasta piatta Cioè uguale per tutti Sì Allora E si parla del 23% Beh ci sono varie proposte Diciamo il principio Diciamo il principio E' quella di mettere Una tassa Uguale per tutti Cioè Un livello percentuale Di tassazione Uguale per tutti Cosa significa Significa Ci sono vantaggi e svantaggi Per carità Su qualsiasi cosa Una cosa è certa Che ci sarebbe Innanzitutto Una semplificazione incredibile Perché noi sappiamo Che il sistema fiscale italiano E' pazzesco Anzi Molti Più soldi Quindi la propensione A spendere di più Questo significa Rimettere in circolazione Molte 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 Risorse Cioè Se io non le pago In tasse Le metto E dovrebbe mettersi In moto Di fatto Un circolo virtuoso Perché io Se ho più disposizione Denaro Spendo di più Si mette in moto Tutta l'economia E quindi c'è un ritorno Il discorso Della tax Zero Area E' perché Esiste Nel dettame Costituzionale Un principio Di progressività Che a qualcuno Potrebbe Diciamo così Interpretare Come avvenire meno Col fatto tutto uguale Mentre invece Se c'è un'area In cui Non so Fino a 10 Fino a 12 mila Fino a 13 mila euro Fino a 15 mila euro Si ci sono varie proposte Non si paga assolutamente nulla Va bene Quindi non è dovuto Come tasse dirette Poi le indirette Nel senso Sulla benzina ce li paghi Sulle sigarette ce li paghi Quello è chiaro Ma qui si parla Praticamente Di sostituzione dell'IRPF Diciamo Quindi I redditi personali Sarebbe di fatto salvaguardata Ci sono alcuni paesi Che lo fanno Specialmente paesi Diciamo dell'est E funziona E' chiaro E' chiaro Che lo Stato Incassa meno Perché logicamente E' meno Però è anche vero Che paradossalmente Sarebbe più equo Perché adesso Ad esempio Sui redditi di capitale Redditi di capitale Significazioni Contrazioni Ci sono C'è un'esempio Al 23% Per esempio Chi paga di meno Sono i ricchi Quelli che guadagnano Oltre i 75 mila euro Ma non è proprio così Ma non è così Spiega Adesso Io non sono Un tifoso Della flat tax Sì ma neanche io Perché però C'è un discorso Di deduzioni E di detrazioni Che andrebbe A rispettare Il dettame Costituzionale Come si dice Della progressività Dell'imposizione fiscale Ma questa Non è dettata Dalla costituzione E' dettata Dal buon senso Perché se Stavo dicendo Simone di Stefano Ma se L'amico qua Guadagna un milione Di euro all'anno Simone ne guadagna di più Molti Molti Se guadagna un milione Di euro all'anno E' giusto Dal mio punto di vista Che paghi di più Rispetto a uno In proporzione Rispetto a uno Che guadagna 50 mila euro all'anno Però secondo me Allora noi Con l'IRPEF E l'IRES E lo Stato In cassa Con le tasse dirette In cassa Circa 400 miliardi Di euro all'anno Cioè Diminuire di Un 70-80 miliardi Di euro Queste entrate Vorrebbe dire Che con l'euro Vorrebbe dire Che lo Stato Fa a default Assolutamente Non riesci più A far quadrare i conti E come dicevo all'inizio Io penso che Prima Simone di Stefano Ha parlato Di Ha dato Ha parlato Cioè Il merito era importante Ma il metodo Con il quale lui Ha detto Nei primi 14 giorni Come d'imperio Ha detto Anche se non ha usato Suo termine forse Però io faccio Queste cose In Italia Ci sono circa 140 miliardi Se non ricordo male Di reddito Che non è Assoggettato A nessun tipo Di tassa Perché la gente Evade C'è il nero Se uno Stato Avesse la capacità Non riesco ad accettare Capisce C'è uno Stato Serio Uno Stato Che non guarda in faccia Nessuno E che non ha bisogno Del voto di scambio Cioè io ti abbasso O non ti faccio pagare le tasse Così tu la prossima volta Mi voti E io continuo Imperterrito Perpetuo Questa possibilità Nefanda Che ti do Uno Stato serio Come quello che vorrebbe Presumo Anche Giulietto Chiesa Ma anche E soprattutto Simone Di Stefano È uno Stato Sì vabbè ma Visto che c'è molta affinità Affinità A livello di programmi È uno Stato Che andrebbe ad incidere Su queste cose Che non permetterebbe Che ci sia gente Che paga le tasse E che si indebita Per pagare le tasse E altra gente invece Fra virgolette Furba Che non paga nulla Dopo se c'è qualcuno Che difende gli evasori fiscali Guarda A me gli evasori fiscali Stanno simpatici Come un riccio Nelle mutande La stessa cosa Perché io Sono un imprenditore Io alla fine dell'anno Pago circa il 70% Il 70% Di quello Che la mia azienda paga Non mi pare corretto Quando invece vedo Degli altri Che grazie a questi Premi A questi bonus A queste chiusure Di un occhio E anche di due occhi Da parte di chi ci governa Non pagano nulla Falsi imprenditori Imprenditori d'accatto Che vivono Anche e soprattutto Alle spalle Ma non tanto mie Quanto del popolo italiano Che mai come in questo momento È in una situazione Veramente Veramente difficile Ma l'Unione Europea È quella che permette Prima di tutti Guarda A Lussemburgo Lasciamo parlare un po' tutti Lo 0,10% Juncker che ci dice Di stringere la cinta È il primo Aveva permesso Alla Walt Disney Di essere tassata In Lussemburgo Allo 0,20% È uno schifo E lui ci dice a noi Di dover Di rientrare I parametri di Maastricht È come se E leggessimo Per dire Dracula Ha la presidenza Dell'Avis È la stessa Identica cosa Non sta Né in cielo Né in terra Guarda Che se non fosse Drammatico Sarebbe ridicolo Guarda Che se non fosse Drammatico Sarebbe ridicolo E nessuno dice niente Ai tempi di Giulietto Chiesa Dicevano i compagni Una risata Vi seppellirà Ma guarda Che veramente Che veramente Ci sta seppellendo La risata Grande Posso Veroce perché Voglio sentire anche No io voglio fare Una breve annotazione Il discorso Che fa Scusa non mi ricordo il nome Bruno Bruno Cesaro Sì a Bruno Presuppone Scusate se userò Queste parole grosse Una riforma Intellettuale Morale Di questo paese Perché per fare Quello che ti dici tu In pochi giorni Far funzionare I sistemi di verifica E di punizione È molto difficile Se tu non risani Il contesto generale Del paese Primo punto Voglio far vedere Una cosa dopo Secondo Veloce La questione principale Mi pare evidente È che noi Non dobbiamo pensare Che i coloro Che sarebbero Avantaggiati Dalla flat tax Perché sono ricchissimi E non pagano Niente E non pagano Niente Non pensiamo Che se gli riduciamo La tassa Pagheranno Perché non c'è limite All'ambizione E all'avidità Umana Quindi non avremo Nessun vantaggio Il risultato finale È che le entrate Dello Stato Saranno Defalcate Gratis Voglio E infine Però me lo fai dire Questo è contro La Costituzione Io mi chiamo Diciamo La lista del popolo Per la Costituzione La Costituzione Dice Che le imposte Devono essere Corrispondenti Al reddito E ciascuno Deve contribuire Alla ricchezza Del paese Sulla base Della sua Capacità Contributiva Se tu dici Uguale per tutti Violi La Costituzione In modo plateare Però chiesa Scusi Solo un inciso Guardi che però Salvini Che è stato Il primo Parlava anche Di detrazioni Di deduzioni In base al reddito Che avrebbero In qualche modo Fatto la pace Fatto la pace Con la Costituzione Tu hai detto adesso Poco fa Che il sistema È talmente complicato Che se introduciamo Delle nuove deduzioni Non ne usciamo più Signori italiani Voi avete visto Chi abbiamo qua Chi si propone Chi si candida Eccetera Guardate che cosa Noi abbiamo portato In Parlamento Mi raccomando Tiralo fuori subito Facciamo vedere Per piacere Tosello Vedi Guardate un pochettino È il loro benessere Fisico-fisico Quindi Prima ancora Dei diritti Degli adulti Siano Essi etero Oppure uomo Dobbiamo considerare Quelli facendo capo Ai bambini Che cosa ha detto? Controllate il gobo Il gobo è a posto Leggi quello che c'è scritto Per favore La copia è esatta Leggila e basta Noi Onorevoli colleghi Ci sentiamo competenti Al punto tale Di assicurare Ai bambini adottati Da due padri Senza una mamma Oppure da due mamma Senza un padre Che essi Non patiscono Turbe di carattere Fisico-fisico Tali da Menomenarne la personalità Nel loro normale Iter di crescita Io dico di no Almeno personalmente Mi ritengo Digiuno Per quando riguarda Qualsiasi Implicazione Di carattere Fisico-fisico Che possa Influire Negativamente Sulla personalità Del fanciullo Adottato da una coppia Omosessuale Mi scuso ovviamente Per la mia Ignoranza In questo caso Avvalorato Da una praxia Di vita Milionaria Se la scienza Gli operatori Psicologiche Infantile Della fisicatria E dei disturbi Comportamento Non sono stati Interpellati Se da questi Non è pervenuto Mai uno studio Accurato E meticoloso Sulle conseguenze Comportamentali E caratteriali Dei bambini Adottati Da due genitori Dello stesso sesso Non credete Che azzardiamo Uno sconfinamento Di competenza Irresponsabile Mai sentito? Ecco Io sono andato Alla ricerca Sono sbalordito Anch'io Da vergognarsi Velocemente Perché stiamo quasi Per arrivare Alla fine La trasmissione Come diceva lei Professore All'inizio Qui il momento Adesso della campagna Elettorale E come diceva lei A chi la spara più grossa Quindi come cittadino E beh Basta guardare Fate vedere Ragazzi Le promesse Il quadro Che abbiamo preparato Antonio Vai Prego Eccoli qua Allora come cittadino A questo punto È facile Tutti ti dicono Che ti vendono E ti possono portare A qualsiasi beneficio Ed è difficile Poter scegliere Chi votare A questo punto Io credo che Il cittadino A questo punto La scelta che deve fare Non è tanto Su quello che ti viene promesso Che è di tutto e di più Ma io credo Che il criterio principale A questo punto Sia la credibilità Della persona politica Che ti sta facendo La proposta Il criterio è La credibilità L'affidabilità E l'esempio Che questa persona Ha dato nel Parlamento Credo che questo sia Il criterio Col quale eventualmente Fare delle scelte E votare qualcuno Facciamo degli esempi pratici Nel 2001 Io non voglio andare A dire chi l'ha fatto Chi non l'ha fatto Facciamo degli esempi Nel 2001 Qualcuno disse Che sarebbe stata introdotta Nella campagna elettorale Due aliquote fiscali Una del 23 E una del 33 2001 Siamo nel 2018 Io questa cosa Non l'ho ancora vista Qualcun altro Qualche mese fa Disse Che se perdeva un referendum Avrebbe lasciato Non solo lui Qualcun altro disse Avrebbe lasciato L'attività politica Lo ha fatto Non mi pare Che l'abbia fatto Allora io mi domando Se tutte queste promesse Che vengono fatte In questo momento Che un po' tutti Fanno le stesse cose A questo punto È difficile poter scegliere A questo punto Il criterio che prevale È la credibilità L'affidabilità E l'esempio Che il politico Ha dato nella sua Nella sua vita politica Andiamo alla Flax Tax Se uno ti viene a dire Che ti dimezzo le tasse È difficile dirgli di no Caspita Ma sono contentissimo Sono il primo a dire Ok Mi dimezzi le tasse Tradire il fare Il problema è Devi dirmi Quali sono le coperture Cioè mi devi dire Non è che da una parte Mi fai il gioco Delle tre carte Cioè mi abbassi le tasse Però dall'altra parte Mi aumenti l'iva Mi togli i servizi Mi aumenti i trasporti Mi aumenti le autostrade Mi aumenti le bollette Allora alla fine È il gioco delle tre carte Perché ti tolgo Mille da una parte Ma le altre mille Te le prendo in modo indiretto Alla fine Il cetio quadra Sempre mille Sono rimasti Quindi da una parte Tolgo l'indiretta Ma dall'altra parte Ti pompo l'indiretta Ti tolgo i servizi E se mi togli i servizi Vuol dire che devo Sborsare io Dei soldi in più Per avere dei servizi È sempre una tassa Quindi alla fine Flex tax Ok bene Ma le coperture quali sono? Si parla di 40-50 miliardi Di copertura Solo per il primo anno Io non lo so Non riusciamo nemmeno A trovare i soldi Per pagare ai pensionati Una pensione Che arrivi a 780 euro Il minimo vitale E troviamo 40-50 miliardi Per fare la flex tax Io non lo so Io mi chiedo Se queste sono promesse Che possono essere Da marenai Poi si privatizza tutto Ci venderanno anche Le aziende dei trasporti Municipalizzate Ci venderanno l'acqua È rimasto poco Da privatizzare Appunto Domanda Posso solo Privatizzare l'aria Sì Qui è l'aria Sì Dopo l'aria Job set È costato 20 miliardi È vero Ha fatto circa un milione Di occupati in più Ma giustamente Sono d'accordo Con Bruno Se riuscissimo A togliere L'evasione fiscale Pagheremo Tutti quanti E avremo La flex tax In automatico Perché se io Faccio entrare Un sacco di soldi Allo Stato Perché recupero L'evasione Si abbassano le tasse Vengo al discorso Del job set 20 miliardi Un milione Di occupati Ma In questi milioni Ne ho 700 mila Che sono Occupati precari E del milione Io ho La maggior parte Degli occupati Hanno più di 50 anni Più di 50 anni Cioè Per la legge Fornero Gli occupati Sono tutti Oltre i 50 anni Ma sono occupati Perché non possono Andare in pensione Perché Te lo sto dicendo Per la legge Fornero Ma se non ci manano Più in pensione Avremo la massima occupazione Cioè moriremo tutti I giovani Sono lì alla porta Non possono lavorare Perché ci sono i 50 anni Che devono stare a 65 anni 67 68 69 Che non ci vedono Non sanno neanche Parto dove digitare Sulla tastiera Non riescono nemmeno più A trovare il posto di lavoro Che devono restare a lavorare Perché i giovani Restano fuori Perché il nostro paese Non è capace Di aumentare la produttività E dare spazio ai giovani Io mi chiedo Se queste sono promesse Veramente capaci Da mantenere Rapidamente Una cosa veloce Perché poi voglio chiedere Una cosa a Simone Sulle bollette Simone Perché questo è il male Proprio dell'Italia Io voglio capire Chi ha creato Tutto questo sistema E qualora tu fossi promosso Tra virgolette Che cosa faresti O potresti fare Per eliminare Da queste bollette Questi delinquenti Che sanguisugano Gli italiani Velocemente Sulla frattax La copertura Della frattax È già facilmente Riscontrabile Perché passeranno Per le pensioni Dal retributivo Al contributivo Con un risparmio Anno di 53 miliardi L'anno È l'unico modo Che avrà il 5 Stelle Per fare il taglio Dei vitalizi Già imposto Dalla corte dei conti Quindi La frattax Vedrai che Se metteranno In accordi I fondi Sono già trovati Capito l'evasione fiscale Si fa subito a parlare Sono usciti i dati Due giorni fa Dall'agenzia delle entrate La prostituzione Sono 4 miliardi Quindi al massimo Può recuperarne 2 Non penso che risparmi Tanti soldi La sottofattura Non frequento Non lo so No no Non è senso No Ti rivolgi a me Come fossi un esperto Della prostituzione Francamente La sottofatturazione Finisci La sottofatturazione Sono 8 miliardi Quindi L'ammontare totale Della famosa Del famoso nero Sono 16 miliardi Quindi al massimo Può recuperare Se lo siete Dati dell'agenzia delle entrate No no Fermo Il resto Sono Cose che vengono messe in bocca Per dire Per fare Per giustificare Sai che cosa Le privatizzazioni Che diceva Giulietto Chiesa Scolarsi Lo vedete con i treni Quindi Non c'è trippa per i gatti Né con l'Italia La spesa pubblica E quindi? Solo l'Italia Le pensioni Passando dal contributivo Dal retributivo Al contributivo Che è già stabilito Perché già l'hanno studiato Gigino Gigino Mezzo destra E mezzo sinistro Già ha fatto tutto In sua bella Che sarebbe Di Maio Perché Gigino Avevo ricordato Il film famoso E lui ha già studiato 53 miliardi di risparmio Dalle pensioni Lì andranno a cadere Grazie al discorso Del taglio dei vitalizi Allora È importante Che cosa Potrebbe fare Per Aiutare I poveri disgraziati Che ricevono Questo belletto Da Da paura Ovviamente Sulle bollette Ci vuole anche lì Chiarezza E capire Che Quasi la metà Delle voci Che leggiamo Poi non sono Alla fine Sul consumo Di ciò Che utilizziamo Ma Altre tasse Balzelli E cose oscure Poi alla fine A chi paga le bollette Allora Diciamo che I servizi pubblici Essenziali Devono tornare Assolutamente Bene Sotto il controllo pubblico E il controllo pubblico Deve offrire Semplicemente Un servizio Per far sì Che le cose Vengano Usufruite Senza mettere Poi sopra Altri balzelli Quindi bollette chiare La presenza Dello Stato Anche nei servizi Pubblici Essenziali Volevo tornare Sul quanto detto Perché è importante È vero Che c'è questo problema Per cui Qualsiasi cosa Vogliamo fare Dobbiamo trovare Una copertura di spese Quindi oggi Non possiamo fare niente Ma proprio perché Noi viviamo in un sistema In cui la nostra moneta Viene stampata Da una banca straniera Che sta dall'altra parte Del continente Su cui noi Non abbiamo nessun controllo E voce in capitolo E abbiamo messo Disgraziatamente Il pareggio di bilancio In Costituzione Che l'hanno messo Tutti i partiti Dalla Lega Fino a finire A tutti quelli Che erano presenti In quel momento storico Per cui Qualsiasi iniziativa Noi vogliamo fare A favore del nostro popolo Dobbiamo andare a mettere Le mani in tasca Ai cittadini Quindi chi dice Di abbassare le tasse E contemporaneamente Alzare le pensioni Vi sta prendendo Letteralmente In giro Si può fare Tutto questo Si possono abbassare Le tasse E far ripartire Il lavoro Con investimenti pubblici Solo se noi Torniamo Ad essere sovrani Della nostra moneta Mettere in circolo Ricchezza Che può voler dire Dal punto di vista Del cittadino Qui rappresentato Sicuramente Magari una piccola Svalutazione Del patrimonio Immobilizzato All'interno di una banca Ma questo magari La spingerà Di investire di più Piuttosto che Tenere i soldi chiusi All'interno del deposito Come Paperon De Paperoni Che poi si svegliava La mattina E lo vedeva Svalutato Quindi anche lei Sarà poi portato Ad investire A comprare A fare Piuttosto che A tenere i soldi Accumulati dentro la banca Adesso tu sai Che i depositi E rimettere in circolo Sì sì Adesso hanno tasso negativo Quindi sono incentivati A non depositare i soldi Certamente Certamente Però anche qui È semplicemente Liberando Facendo abbassare le tasse Quindi qua torniamo All'evasione Io direi sì Dimezziamo il carico fiscale A tutta Italia E poi diventiamo inflessibili Perché diventare inflessibili Senza dimezzare il carico A tutta Italia Vuol dire costruire Centinaia di carcere Per infilare dentro la gente Che non paga le tasse Andiamo a colpire Le grandi multinazionali Che oggi in Europa Sfuggono Perché c'è chi va In Irlanda E paga lo 0,0 niente Di tasse Rispetto a quelle Che stanno qui in Italia Quindi la soluzione Io ripeto È tornare alla nostra Piena sovranità Riprendere il controllo Della nostra moneta Della nostra economia Dimezzare le tasse Essere inflessibili Con gli evasori Consentire alla pensione Di risparmiare Ma anche di investire Insomma La libertà vera Sta fuori dall'euro E fuori dall'Unione Europea Allora un invito Un invito Un invito Quello alla telecamera E poi Faccio fare anche A Giulietto Perché siete I due candidati Diciamo Un invito A chi sta guardando Questa trasmissione Perché Dovete capire Che Casa Pound Non è quella Che vi raccontano Gli altri Sia Forza Nuova Che Casa Pound Anche se Differenti come partiti Però Imparate a conoscere Realmente Quello che di buono Fanno E quando più buono Più onesti E sinceri Sono questi personaggi Di quelli che voi Vedete E vi raccontano Palle 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 Prego Allora Oltre ovviamente A ringraziarvi Per lo spazio concesso Io vorrei dire agli elettori Che non vinceremo Le elezioni Nel senso Non prenderemo il 41% Ma oggi c'è la necessità Di avere in Parlamento Un'opposizione dura E inflessibile Perché ci aspettano Cinque anni Di governo tecnico Invito gli elettori Di centrodestra Ad aprire gli occhi E smettere di credere Alle Diciamo Bugie Per essere delicati Che vi raccontano In continuazione Si ripresentano sempre Con il vecchio schema Con Silvio Berlusconi Sembra di stare nel 94 Che dice le stesse cose Non vi fidate Silvio Berlusconi Prendere i vostri voti E li porterà Al governo tecnico Sostenete Casa Pound E mandate Quanto meno Almeno 12-13 Combattenti Uomini e donne Di Casa Pound In Parlamento A difendere gli italiani Tutti gli italiani Di destra Di sinistra Di centro che siano Il nostro compito Oggi è difendere l'Italia Lo possiamo fare solo Se voi ci votate E ci mandate in Parlamento Altrimenti saranno Cinque anni Di lacrime e sangue Senza neanche Un'opposizione decente Un invito Questa è la telecamera Io non sono così ottimista Ribadisco il mio discorso precedente Noi abbiamo di fronte Dei nemici Che hanno strumenti Molto più forti Dei nostri Che ci possono mettere in angolo Molto facilmente Per cui ribadisco Che noi dobbiamo essere prudenti La cosa importante È sapere Che cosa possiamo fare Ho detto Che noi abbiamo Previsto Un piano intermedio Che ci consenta Di dare lavoro Alla gente Subito Senza Proclamare cose Che non possiamo fare Benissimo Ribadisco questo punto Perché mi pare importante Non si può dire Io vorrei fare Bisogna dire Che cosa posso fare Concretamente E quindi bisogna andare In Parlamento Con le idee chiare Pulite Non facendo promesse Che non possiamo mantenere Perché non ne avremo la forza L'unica cosa che dico è Aggiungo Questa classe politica È palesemente in crisi Perché non ha idee Questi che abbiamo di fronte Sono privi di un programma Vero e proprio Perché sono dei maggiordomi In realtà Sono della gente Che obbedisce a ordini Che vengono d'altrove Per cui Non credo che abbiamo di fronte Cinque anni di governo testo Grazie Giulietto Il governo tecnico sarà Se questi qui Non troveranno Come io ritengo Una maggioranza Sarà da qui a ottobre E allora In questo periodo Si può determinare Una vera rivolta popolare Nel senso che Questo ci tengo a dirlo E noi aiuteremo Abbiamo detto Lista del popolo Anche per polemizzare Contro quelli che parlano Contro il populismo Populismo Che cos'è il populismo Se non una rivolta della gente E quindi C'è una cosa Che bisogna lavorare Bisogna lavorare Perché questa protesta Cresca E diventi Una protesta politica Anche nel Parlamento Flash Che devo chiudere Ricordiamocelo sempre Che l'Italia È una repubblica democratica Fondata sul lavoro E non sul parigio Di bilancio E la sovranità Appartiene al popolo Cioè a noi Non ci facciamo fregare Per l'ennesima volta Grazie Io devo ringraziare tutti Per la partecipazione E non finisce qui Perché noi avremo occasione Ancora Per parlare Anche se Ci impongono in maniera Pazzesca La par condicio Qualcuno Pensava Mi ha fatto una telefonata Oggi Dice Guardi che stasera È cominciata la par condicio No Dico Inizia Inizia da lunedì prossimo Da domenica Quindi c'è spazio e tempo Ancora Di farmi stracacchi Di chi voglio E invitare chi voglio Chiaro Quindi Poi Ci sarà Tu mi conosci Bruno Cesaro Sa come sono fatto io Quindi non è una novità La prossima settimana Molto moderato La prossima settimana Avremo occasione ancora Di parlare Su per giù Degli stessi argomenti Verso il voto E qui cominceremo A avere Una parconicio Come dicono Saremo Costretti Ad invitare Quelli che io Sono sincero Non avrei mai invitato Tant'è Addirittura voglio sapere Chi dobbiamo votare Qual è la nostra idea politica Ma vi rendete conto Dobbiamo dire a voi Chi devo votare io Buonanotte Buona salute a tutti Arrivederci Notizie Oggi È una produzione di Canale Italia Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti